C'è anche Francesco Ferrari, MVP, è l'ultimo quarto. Francesco, che partita è stata? È stata sicuramente una partita molto difficile, sapevamo che lo era. Abbiamo già giocato due volte contro di loro, sono state due partite molto toste. Si siamo svegliati finalmente nell'ultimo quarto e siamo riusciti a portarla a casa. Appunto, il regolo della season fu una vittoria di scarto minimo, di due punti a ritorno di venti all'andata. Però che Cagliani è stato dall'altra parte? Come è stato giocare contro un gioco del genere? Sì, lui lo conosco abbastanza bene, sapevamo che era il protagonista principale, è stato molto bravo anche a fare canestre difficili, a subire falli. È un bravo giocatore. L'anno scorso che siete i pretanisti dell'Argento alle finali del 2019, quest'anno volete ritentare immagino una scala a fine in fondo? Ovviamente vogliamo ritentarla sperando di ottenere il primo posto. Grazie mille Francesco e complimenti.